Un'altra cosa da non fare è di non utilizzare la farfalla a una velocità superiore di 4 perché non è consentita, ma vi ricordo nel caso in cui non lo ricordate che la trovate scritta qui sopra, la velocità massima dell'utilizzo, quindi velocità 4. Anche per oggi spero di avervi dato qualche breve informazione utile, quindi ciao e al prossimo video da Teresa e Belli Come Fare, ciao ciao!